Ti piacciono le riviste di meccanica? Non posso dire tutto quello che penso Non posso fare tutto quello che voglio Non posso esaudire i miei desideri La condizione in cui mi trovo è proprio fuori dal tempo Non posso dire solo stupide frasi Anche se per caso mi piacessero i fiori Non è detto che io debba fare il florista Il questionario dei tre giorni è proprio fuori dal tempo I professori sono quasi tutti fuori dal tempo Mi piace la gente vivace, non amo chi taccia consente Avete per caso già fatto i tre giorni? Io personalmente preferisco la gente insieme vivente Distance Distance Non posso esternare i pensieri strani Non posso detestare liberamente Anche se a volte avrei buone ragioni Il questionario dei tre giorni è proprio fuori dal tempo I professori sono quasi tutti fuori dal tempo Mi piace la gente vivace Mi piace la gente sincera Ma anche quella che mente Penso che praticamente sia bella la gente insana di mente La condizione in cui mi trovo proprio fuori dal tempo 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 Fuori dal tempo